Nozze romane Nozze romane stasera, 27 settembre, su Rai 1. Trama e cast del film Nozze romane, il film inonda questa sera su Rai 1. Il cast e la trama. Questa sera su Rai 1 andrà in onda, a partire dalle 21 e 25, subito dopo una nuova puntata di Soliti ignoti, il film Nozze romane. La pellicola vede Federica Sabatini debuttare per la prima volta in un film, con il ruolo di Bianca. Nel ruolo dell'altro protagonista, Max, troviamo Mattias Zera ad interpretarlo. Il cast del film Nozze romane vede anche la presenza di numerosi attori molto conosciuti e amati dal pubblico del piccolo e grande schermo. La prima è Stefania Rocca che interpreta il ruolo della contessa d'Arcadia. Altri interpreti sono Ricchi Tognazzi nel ruolo del conte Vibaldo ed Elena Cotta nei panni di Donna Costanza. Il film Nozze romane è una commedia sentimentale del 2017 e diretta da Olaf Crensen. Il film Nozze romane, un affascinante commedia romantica, prodotto italiano e tedesco, vede ancora una volta come protagonista la città eterna, Roma, che fa da cornice a questa affascinante storia di amore tra la nobile Bianca ed un giovane architetto tedesco di nome Max. Nozze romane oggi, 27 settembre 2017, su Rai 1. La trama del film. Il film Nozze romane, in onda questa sera alle 21 e 25 su Rai 1, si apre nella classica scena di matrimonio, prima del sì. I giovani ragazzi protagonisti di Nozze romane, prima di arrivare all'altare e scambiarsi finalmente le fedi nuiziali e soprattutto il fatidico sì, devono avere a che fare con le famiglie di entrambi, che sono contro e fanno resistenza a questo matrimonio. Il conte Vibaldo e la contessa Gioia d'Accadia, una coppia nobile, altezzosa, che rappresenta un'antica famiglia nobiliare di origine romana, non si sono ancora resi nel poter vedere la loro unica figlia tra le braccia dell'architetto tedesco Max. Prima di entrare in chiesa la situazione peggiora ulteriormente con l'arrivo dei genitori di Max, provenienti invece da una classe sociale distante da quella dei genitori di Bianca, oltre che venire da un paese lontano. Max nasconde la crisi dei genitori, togliendo dalla lista degli invitati l'amante del padre, nonché l'assistente di volo Xenia. Nonostante tutte queste precauzioni, la valanga di bugie arriverà presto a valle e tutti i nodi verranno al pettine. Che cosa accadrà tra i due giovani ragazzi? Vincerà l'amore nonostante si trovano ad avere tutto e tutti contro? Lo scopriremo questa sera a partire dalle 21.25 con il film Nozze Romane.